palermo napoli palermo napoli andiamo avanti va bene tutto a posto bla 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 siamo tutti bene ok il nostro avversario torres remaining griezmann che interessante l'attacco cercheremo di tenerlo io sto bene così e andiamo a match shadow of the tomb raider si parte palermo napoli al berbera e lo so lo so purtroppo non c'è cross play perché altrimenti ci vedevano sfidarci comunque siamo partiti lukaku lobotka lukaku appoggia per maradona rientra maradona devling di diego vada lukaku viera fa il fenomeno come sempre poi buongiorno lobotka cerca maradona lukaku 1 2 se ne va diego maradona scende diego palla dall'altro lato per caraschelia forse un po affrettata poi lobotka vada anghissa dentro per caraschelia la parata qualcuno si chiederà perché non ho tirato sul primo palo perché me lo sono chiesto anghissa lobotka sbaglia perché ci avvierà di fronte attenzione anghissa fa il fenomeno lui lobotka prova a togliergli una caviglia raccomani recupera palla vada lukaku palla per maradona scende maradona rientra maradona palla per lukaku di tacco per racmani che cazzo ci fa lì racmani e poi lukaku la mette dentro 1-0 la caca appena c'è cosplay faccio vedere sempre napoli interessa giochiamo solo ma giochiamo solo napoli intero tutto il tempo ok maradona arriva palla vada caraschelia cerca caralobotka si ferma lobo cerca ancora maradona di tacco per lukaku si ferma lukaku senza fallo invece si fallo su lukaku calcio di munizione ha sbagliato beccara la passa ieri a ragazzi colpa mia attenzione palla dentro li vera anghissa ricora palla vada lobotka dribbling di lobotka che legge la giocata lobo cerca centralmente maradona maradona per lukaku per poco attenzioni diego ricora palla diego al giro il difensore se la cava non ho capito giuseppe che cosa intendi non ho capito che cosa volevi scrivere me lo puoi spiegare per favore ragazzi attenzione palla per anghi sta dentro per lukaku grande in bucata se ne va lukaku 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 sul primo palo ok peppe adesso ripeti quello che hai detto prima chi è forte intanto la palla da maradona per me raccmani raccmani provare a tenerla lì non ci riesce poi di nuovo arriva zamba anghissa anghissa fermato con un mezzo falletto olivera attenzione qui di lorenzo prova a leggere la giocata di davis di lorenzo grande raccmani che rientra poi la mette fuori maradona si gira dalla parte giusta fallaccio su maradona da dietro giallo per costagotta lukaku sulla passaggio di raccmani olivera raccmani palla dentro qui siamo stati estremamente sfortunati e abbiamo sbagliato anche perché mi sono distratto un'altra cosa lasciamo stare pareggio del palermo con torres ragazzi possiamo fare meglio lo botca vada di lorenzo scende di lorenzo cerca subito romelo lukaku si gira sul destro evita l'avversario adesso si riferma penso che ce la fallo lì calcio di punizione maradona prova maradona la parata di smichael palla troppo centrale di diego smichael che rilancia raccmani prova a staccare vada maradona driving di diego proy cerca lukaku raccmani torna da meret prova ad andare con le mani da mazzocchi un po' affrettata questa situazione raccmani regola palla lo botca cerca maradona poi 1-2 con lukaku ma diego resta troppo piantato perché è andato in controtempo lì poi lo botca prova a chiudere su davis non ci riesce chiude buongiorno su torres poi maradona attenzione lukaku dentro per diego che fa correre cavara miracolo del difensore maradona passaggio incomprensibile questo verso mi sa maradona non ancora loro grisman chiude olivera poi anghissa palla per caraschelia appoggia per lukaku esige dall'altro lato cerca di andare da maradona se la cava ancora il palermo qui con la chiusura anghissa attenzione torres zambo anghissa torres recupera palla lukaku far correre diego fallaccio su diego quando subisci questi gol e voglio solo rispegnere tutto fra un po' si anche se però ti dico la verità è colpa mia principalmente perché mi sono distratto per un altro fattore esterno che ho guardato il telefono per un fatto di lavoro e quindi diciamo quello che si può evitare cavara cerca mazzocchi che la mette dentro con anghissa di tacco per mazzocchi che l'alza smycol bilancio lungo di smycol abbiamo provato un piccolo schema qui non c'è riuscito anghissa provano ad andare in chiusura su grisman davis palla dentro riponiamo palla buongiorno la daddi lorenzo palla per lukaku grande anticiocchi di raccomani e poi si sbaglia tutto a mirra ma c'è su cristo di lorenzo vada quara schelia che prova a girarsi quara attenzione quara schelia loro sono tutti qua mi danno l'impressione di essere tutti in difesa quara gira cerca di andare da lukaku palla per anghissa che cerca ancora mazzocchi che prova ad alzarla per quara niente da fare anghissa riparte il palermo attenzione raccomani raccomani torna anche lo botca palla dentro olivera prova a staccare anghissa vada quara schelia cerca lukaku lukaku si gira scende lukaku la appoggia maradona maradona rientra la ridà lukaku attenzione romelo romelo dentro per quara schelia gran giocata e qui ci apareggia prima della fine del primo tempo importante questo pareggio ragazzi due a due lo botca recupera palla sbaglia tutto lo bot attenzione attaccano loro torres recuperiamo palla anghissa finisce il primo tempo due a due col pareggio alla fine di quiccia bene così guarda palla per lo botca allarga per mazzocchi cerca dentro anghissa gran giocata di mazzocchi anghissa prova a scendere scende anghissa fino in fondo anghissa la da mazzocchi miracolo del difensore lì attenzione torres adesso palla dentro c'è olivera proviamo a chiudere con olivera e buongiorno loro vanno fino al cross in mezzo meret la mette giù alex meret che rilancia lungo verso maradona che stacca per lukaku che prova ad alzarla per quara schiena che prende palla e prova ad andarsene ma maldini lo ferma attenzione qui mazzocchi minchia che culo lo botca non riusciamo ad intervenire mai fino in fondo loro e poi lo bo cerca di aprire verso maradona palla per lukaku che prova a far andare Diego maradona fallo su lukaku ma perché se sto andando in contropiede ah perché è espulso dimmi che me l'ha espulso costa corta a sto punto attenzione l'ultimo intervento gli è costato il secondo giallo doppio giallo per costa corta bene così ragazzi bene così ragazzi siamo in più quara va dentro da maradona che prova ad appoggiare a lukaku anche essa per mazzocchi che la crossa fa malissimo ovviamente malissimo attenzione provano a rilanciare lungo loro mazzocchi se la va a riprendere attenzione buongiorno prova ad andare dentro anche se chiude tutto ok facciamo un po' dei cambi un po' più offensivi ripartiranno con una rimessa laterale fuori zambo dentro ah il cielo sta di merda va bene dentro un attimo raspa dentro raspa seconda punta finiamo giusto un attimo così attenzione regoliamo palla va buongiorno che duetta con mazzocchi scende pasquale mazzocchi rientra mazzocchi sono scappati tutti qui purtroppo non ho più trovato il passaggio proviamo a recuperare qui con olivera dentro ancora per mazzocchi che va centralmente dallo botca che allarga da raspa dentro per caraschelia scende caraschelia vada kukaku che prova ad appoggiarla caraschelia attenzione essere un po' più cattivi attenzione lo botca cerca raspa che tiene palla raspa ritori prova il dribbling senza pollo lo botca lobo dentro per caraschelia che appoggia a raspa cavara se la va a recuperare attenzione cavaraschelia ma c'è a merda attenzione lo botca lukaku raspadori spara raspadori calcio d'angolo stiamo attaccando in maniera ma stiamo attaccando in maniera troppo confusa troppo troppo confusa ma efficace cavara cercherà costa eh costa corte cercherà guarda verso buongiorno che prova a tenerla lì buongiorno che passaggio è? pacmani attenzione mamma mia che passaggio gli è riuscito e poi meretta rilancio lungo vediamo se mettiamo riusciamo a mettere un po' di ordine pare di no ripartono loro adesso buongiorno l'allarga per mazzocchi vada raspadori per caraschelia mazzocchi ancora recupera mazzocchi allarga per buongiorno dall'altro lato buongiorno palla per raspadori caraschelia si gira caraschelia va dentro da lukaku che spara lukaku per il 3-2 romeno lukaku in bucata di cavara lukaku non sbaglia 3-2 meritato aggiungerei adesso mettiamo un po' politano mettiamo raspadori prima punta spostiamo politano in maradona qua così dentro ancora gilmore che è veramente on fire ultimamente sempre e comunque e poi andiamo a mettere un po' rafa marin al posto di buongiorno che è stanchissimo e metterei però lì fuori bolivera più che rafa marin rafa marin lo spostiamo lì braccetto di sinistra che va benissimo così e ragazzi io vi faccio giocare anche alessio zerbin che è un fire al posto di caraschelia ma sì perché no alessio zerbin ok zerbin raspadori bellissimo ragazzi zerbin raspadori è bellissimo racmani palla dentro racmani palla per gilmore che ha provato ad alzarla peccato maradona niente da fare gilmore anticipa tutti meretta rilancia va dentro palladino riuscita per politano racmani gilmore zerbin rilancia lungo zerbin stacca palla dentro raspadori qui con un po' di fortuna riuscita riuscita ma quando ha fischiato l'arbitro scusate mi sto drogando oggi attenzione raccomani alza questo pallone non so io non riesco a capire perché c'è questa continua confusione in queste partite ultimamente poi maradona incredibile alzato per aria da beckenbauer esce racmani che prende questo pallone la alza per buttarla lontana verso zerbin niente da fare attaccano ancora loro con olivera che prova a staccare gilmore allarga per mazzocchi che la alza per maradona maradona prende palla scende va dentro direttamente da alessio zerbin che si gira in aria almeno ci prova non ci riesce palla recuperata ripersa da rafamarin che adesso deve andare in recupero qui olivera grandissimo poi gilmore alza ancora il pallone non la riesce a mettere giù maradona gilmore ancora rafamarin sbaglia tutto rafamarin ripartono loro olivera chiude raccamani poi gilmore maradona la alza per zerbin che prova ad andare beckenbauer chiude attenzione raspadori prova il pressing feroce gilmore grande intervento maradona dentro per zerbin che vede raspadori assist sensazionale di alessio zerbin per giacomino raspadori che segna il primo gol stagionale ragazzi 4 a 2 penso che ce la siamo portata a casa questa bene così dopo un po' di confusione maradona zerbin battuto maradona ha battuto maradona dallo zio ciao samu dove stai gilmore va dentro ma finisce qui 4 a 2 ragazzi bene 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 così bene